Se il valore di un uomo si misura sulla sua capacità di risollevarsi alle catastrofi della vita, ebbene la storia del gallerista Kahnweiler va ben oltre al motivo per cui è conosciuto e normalmente studiato e vale a dire l'ascesa dell'artista Picasso, perché la sua vita è anche un modello di una personalità e di un uomo che forte di determinazione e cultura riesce a superare due guerre mondiali, una crisi finanziaria epocale come quella del 29 e degli ostacoli che la vita gli ha portato davanti. È una storia veramente appassionante della quale cercherò di tracciarvi le linee principali. 1884 è la data di nascita di Daniel Henry Kahnweiler che nasce nella ricca città di Stoccarda in Germania da una famiglia facoltosa, sia la madre che il padre infatti sono uno importatore di prodotti coloniali e la madre ancora più ricca viene da una famiglia di commercianti di pietre preziose. Tanto è vero che i due fratelli della madre, gli zii, si sposteranno molto velocemente a Londra dove diventeranno ricchissimi acquisendo delle miniere di pietre preziose in Sudafrica. Daniel Henry riceve un'educazione di primo ordine e viene avviato anche alle arti, soprattutto da un prozio. È molto appassionato di musica, tanto è vero che lui coltiverà per molti anni il desiderio di diventare un musicista di professione, ma non è un fuoriclasse e lui è consapevole di questo ed è un uomo ambizioso, quindi comunque si rende conto per primo che quella non è una carriera perseguibile, ma poi soprattutto i genitori se lo vedono già nel mondo finanziario e quindi evidentemente ostacolerebbero una carriera di questo tipo. A 18 anni arriva a Londra, evidentemente non solo per imparare l'inglese ma per essere avviato nel gran mondo della finanza, ma in realtà lui a Londra rimane molto più affascinato da quello che avviene nel mondo artistico, in modo particolare visita quotidianamente i musei e si reca molto ancora più frequentemente nei teatri. L'unica gratificazione che ha in maniera evidente è quella di cominciare entrare in contatto con persone che come lui sono molto appassionate di arte. Fra questi conoscerà i coniugi Ruff che non solo diventeranno dei grandi amici ma anche i suoi migliori collezionisti nella carriera che avvierà solo a 23 anni a Parigi. È nel 1904 che infatti arriva a Parigi, inizialmente per sfuggire alla cappa degli zii e della famiglia materna e evidentemente Parigi è un momento di massimo fulgore, è molto innovativa in tutte le arti e quindi Kahnweiler ha la possibilità di accedere non solo alle visite del Louvre che anche in questo caso saranno quotidiane ma all'opera e a tutto un circolo di persone interessate appunto alle arti. Fra queste incontra quella che sarà la donna della sua vita, Leotina Lexadringodon. Lucy viene da una famiglia borghese ed è per questo che è in visa alla famiglia e Daniel farà leva proprio sul dissidio che c'è da parte della famiglia barattando il fatto di non sposare Lucy con in cambio un prestito, un prestito che gli servirà a soli 23 anni di aprire la sua prima galleria, 16 metri quadrati in Rouignan. Ma Parigi è anche il luogo di attrazione di un giovane spagnolo di cui sentiremo parlare, Pablo Picasso. A tre anni soli più di Kahnweiler, quindi sono praticamente coetanei, ha le idee molto chiare ed è particolarmente ambizioso, carattere difficile ma molto capace. Le fiere e le esposizioni sono un luogo di grande incontro evidentemente come oggi e Kahnweiler conosce Picasso proprio attraverso la fiera del Salone d'Autunno. Gli viene presentato appunto da Apollinaire e da Max Jacob e ne rimane immediatamente incantato, tanto è vero che chiede di andare a visitare immediatamente lo studio, cosa che avviene e qui fa il primo grande errore della sua vita. Picasso gli mostra un dipinto di cui è particolarmente fiero che è arrotolato in fondo allo studio. Si tratta del Bordel d'Avignon che noi conosciamo come le Deux Moselles d'Avignon. Kahnweiler è giovane, è una pittura nuova, il dipinto gli piace ma forse no, è giovane, gli affari non vanno bene, ha pochissimi denari, non lo acquista. Naturalmente questo fa dirare il presuntuoso Picasso ma non inquina il rapporto fra i due, tanto è vero che quando Kahnweiler chiederà a breve un secondo incontro nello studio di Picasso, Picasso lo accoglierà nel suo studio e Kahnweiler fa il suo primo gesto da grande gallerista che è quello di acquistare alcuni disegni. È appena svoltato il secolo Parigi è in grande fermento in modo particolare nelle arti visive. Già Cézanne aveva iniziato un percorso di decostruzione della figura e questo è un germe perfetto per due menti fervide e fantasiose e capaci e geniali come Picasso da un lato e Braque dall'altro. I due artisti in questa fase ancora non si conoscono ma entrambi stanno cominciando a portare avanti un discorso che poi noi conosceremo come cubismo. Cubismo in realtà non è una definizione che viene data dai protagonisti quindi né da Kahnweiler né dagli artisti ma dal critico Louise Vauxel e da Henri Matisse e inizialmente è una definizione che vuole avere una connotazione assolutamente ironica. E già nel 1908 Kahnweiler dedica la sua prima mostra personale a Georges Braque. Saranno 27 tele che avranno anche un discreto successo ma in modo particolare cominciano a determinare quale che sarà il percorso della galleria di Kahnweiler. Nel frattempo un altro artista sta mettendo le basi di quello che è il cubismo futuro è Jean Metzinger il quale però è convinto che questo sia un genere astratto. È un dato importante perché da questa definizione Kahnweiler si dissocia sin dalle primi pensieri e dalle prime riflessioni per poi maturare addirittura un pamphlet che sarà il caposaldo della definizione del genere del cubismo. Kahnweiler è molto convinto delle sue considerazioni su quelle che sono appunto le origini del cubismo e per prendere le distanze da altri artisti o altri critici come Apollinaire che in quel momento stanno cercando di associare il proprio nome al futuro movimento o al movimento che comunque è sul nascere. È forte del fatto che contrae accordi in esclusiva con i suoi artisti e questo è il patto per essere trattati da Kahnweiler in l'unica condizione che lui pone del quale però è tassativamente convinto. Appunto forte del fatto di avere e di poter trattare i dipinti in esclusiva non consente a Braque e a Picasso di esporre i loro dipinti associandoli vicino, mettendoli vicino in esposizione a quelli di Metzinger o di altri artisti. In questo modo rimarca le sue considerazioni su quelle che sono non solo le origini del cubismo ma anche della genialità dei due artisti che lui tratta che in nessun modo vuole che vengano associati o strumentalizzati dagli altri artisti o da dei critici. E da un punto di vista intellettuale più culturale queste riflessioni saranno all'origine di un pamphlet che lui inizia nel 1913, porterà a compimento nel 15 e andrà alle stampe nel 1958. Ma la via al cubismo, appunto il pamphlet, mette l'accento fondamentalmente su quello che è il principio base di Kahnweiler, vale a dire che il cubismo non è né all'origine della pittura astratta perché non è pittura astratta, è pittura figurativa, nel senso che parte da un soggetto a cui dà forma, quello di cui è spogliata o è il contesto, ma si tratta di arte figurativa perché parte comunque da un soggetto preciso. Agosto 1914, scoppia la prima guerra mondiale. Per molti sarà una scaramuccia di soli 15 giorni, fra questi c'è anche Kahnweiler che sottovaluta non solo la durata ma anche la potenza della prima guerra mondiale e fa due errori. Il primo non mette a riparo il proprio magazzino che nel frattempo si è arricchito di altri artisti fra cui soprattutto Fernand Leger. La seconda è che non prende posizione perché lui evidentemente è tedesco, il suo cuore è in Francia e lui si sente francese a tutti gli effetti. E quindi dopo tre mesi di vacanza con la moglie decide di esiliare a Berna e verrà ospitato dalla coppia Rupf che aveva conosciuto a Londra diversi anni prima. Approfitterà di questo periodo di esilio sia per finire come abbiamo visto prima il panfret sulla via del cubismo ma soprattutto per approfondire i suoi studi filosofici che sono sempre stati tra le sue passioni e in modo particolare si appassiona della filosofia di Kant la cui razionalità vede molto vicina alla propria e approfondisce in modo particolare la critica d'arte. Nel frattempo lascia un vuoto a Parigi e questo lo pagherà carissimo. Da un lato la maggior parte dei suoi artisti verranno mandati in guerra e non gli perdoneranno il fatto che lui si è esiliato in Svizzera. Molti di questi vengono mandati fra l'altro proprio per riprodurre e per testimoniare quello che è la guerra tanto è vero che noi abbiamo moltissimi dipinti di questo periodo di grandi artisti. Dall'altro alcuni dei galleristi che invece sono rimasti nella città di Parigi evidentemente cercheranno di riempire il vuoto che lui ha lasciato. In modo particolare Paul Guillaume farà due azioni. La prima si evolve a tal punto da riuscire a spostare la sua galleria fino ad arrivare a Faubourou Saint-Honoré ma dall'altra ancora più importante riuscirà praticamente a portare via gran parte degli artisti che erano nella scuderia di Kahnweiler. In primis Picasso ma poi anche acquisirà Modigliani, De Chirico, Van Dongen, Deren. Insomma la sua è una scuderia di primo ordine. Dall'altro un altro chiamiamolo acerrimo nemico da un punto di vista artistico è il critico Félix Fénion che lavora per un altro antagonista di Kahnweiler che è la galleria Rosenberg il quale si arriverà da Picasso e vedendo il famoso dipinto delle Deux Moselles d'Avignon gli suggerirà appunto il cambio di nome e bastò questo per farne cambiare anche le sue valutazioni e il suo destino. 1919 la guerra finisce è ora di lasciare Berna e di rientrare a Parigi. Quasi a volersi dare una ventata di freschezza Kahnweiler decide di sposare finalmente Lucy con cui aveva convissuto fino a quel momento ma questo non basta non prepara in realtà l'entrata a Parigi cosa che faranno invece altri nel rientro a Parigi è il caso del compositore Stravinsky che lui fra l'altro ammira moltissimo il quale prima di rientrare dal suo esilio prepara in pompa magna un concerto la cui scenografia fra l'altro sarà dipinta da Picasso e ad applaudirlo ci saranno persone eminenti influenti a Parigi come Coco Chanel e Jean Cocteau. Ben diversa è invece la storia per i coniugi Kahnweiler e il matrimonio non è sufficiente. Da un lato Kahnweiler aveva lasciato 800 dipinti nei magazzini della propria galleria e questi verranno sequestrati durante la guerra dallo Stato francese che non glieli restituirà e non c'è modo di riuscire ad averli indietro. Dall'altro la sua fama in qualche maniera è stata minata appunto come abbiamo visto dei galleristi che hanno riempito il vuoto ma ancora più grave i contratti in esclusiva o comunque i rapporti che lui aveva allacciato negli anni precedenti sono prevalentemente tutti rotti quindi quello che lui deve ristabilire è veramente la galleria a tutti gli effetti. Al di là del fatto che cercherà di entrare in possesso dei suoi dipinti senza riuscirci quello che farà è quello di recuperare i rapporti con gli artisti. I primi con cui non avrà successo sono Picasso e Van Dongen mentre recupererà in pieno il rapporto sia di lavoro che di amicizia con Juan Gris e a seguire Deren e Vlaminck. In entrambi i casi sono degli artisti nelle quali lui crede moltissimo e che lo aiuteranno a risollevarsi. L'anno successivo l'Hotel Drouot mette in vendita gli 800 dipinti per opera dello Stato in cui lui cercherà anche di aggiudicarsi qualche opera ma senza riuscirci. I dipinti sono appunto 800 lui ne acquisirà con un prestanome perché non può nemmeno acquistarle in prima persona solo 27 ma quello che lo metterà più a disagio è che la maggior parte dei dipinti tra cui Picasso, Braque e tutta la sua squadra verranno acquisiti in gran parte anche dai galleristi che gli sono antagonisti. E così il primo settembre di quell'anno riesce finalmente a riaprire una galleria. Deve usare un prestanome perché con il cognome tedesco non gli è possibile e quindi trova nel banchiere André Simon un prestanome per poter avviare l'attività. André Simon viene dal mondo della finanza, non è un grande appassionato di arte e quindi non c'è nemmeno il rischio che in qualche maniera gli porti via in un secondo momento la galleria, il nome o l'attività. E sebbene i fasti non siano certo quelli appena precedenti alla guerra lui può contare su rapporti con artisti nei quali lui crede molto. Il primo fra questi è lo scultore Manolo con cui allacerà anche una grande amicizia e poi ci sarà il ritratto che si farà fare da Modigliani che è stato venduto fra l'altro pochi anni fa alla Cristis per 43 milioni di euro ma il vero colpo di fortuna ce l'ha quando il sarto Doucet lo incarica di acquistare per conto suo il dipinto di Picasso Le Demoiselles d'Avignon che da bordello era diventato Demoiselles e gli viene venduto per la cifra astronomica da allora di 25 mila franchi. È il vero punto di ripartenza di Kahnweiler. E nonostante cominci a sollevarsi la carriera e l'attività di Kahnweiler e anche a superare la morte del grandissimo amico Juan Gris di cui poi scriverà anche un testo nel 29 che incombe sul mondo una crisi finanziaria veramente epocale. Il 24 ottobre del 1929 conosciuto come il giovedì nero seguito poi dal martedì nero e seguito anche dal venerdì nero arriva al mondo intero una crisi veramente difficile da superare. A Parigi arriverà qualche mese in ritardo ma questo evidentemente colpirà anche tutti i galleristi. E Kahnweiler che anche se ha ormai una conduzione e dei costi all'osso perché la galleria viene condotta solo da se stesso. È Louise Leysir che sarà fra l'altro una soccia che porterà avanti la galleria fino alla fine della vita di Kahnweiler e di cui lui si fida ciecamente giustamente è una compagna di affari assolutamente affidabile però appunto nonostante questo le spese di galleria sono troppo alte per permettergli di sostenere in toto i giovani artisti perché un'altra delle abitudini di Kahnweiler è quella di sostenere in toto i giovani artisti e quindi decide di far partire una sorta di sottoscrizione. È un'associazione di mutuo soccorso in cui i collezionisti possono sottoscrivere a fasce di prezzo a loro piacimento appunto delle sottoscrizioni che permetteranno a Kahnweiler di sostenere a sua volta i giovani emergenti ma questo durerà fino al 1931 perché appunto nel momento in cui la crisi arriva prepotentemente anche a Parigi va da sé che anche i collezionisti sono a loro volta minati e non possono portare avanti questo progetto all'infinito e quindi Kahnweiler deve correre a nuovamente ai ripari e torna fuori un po' quella che è stata una sua passione giovanile che è quella dell'editore. In realtà non ha grande fortuna fondamentalmente cerca di produrre libri d'artista che non hanno grande commerciabilità ma incappa in due personaggi che gli risollevano il morale e il portafoglio. Da un lato Marrault la cui ascesa politica è altrettanto agli eccessi come i suoi testi che quindi vanno per la maggiore ma in modo particolare incappa in un libro che per lui diventerà veramente fondamentale. L'uomo senza qualità di Robert Musil, austriaco di cui evidentemente lui padroneggia la lingua e si infatua della costruzione di Musil. In questo si identifica nel metodo, nella capacità di riuscire a ricreare un arazzo umano nel quale appunto lui si identifica nel metodo di lavoro. Lo tradurrà e sarà uno dei pochi successi che avrà in questo periodo. E su questa crisi come sappiamo si fondano le fortune e i successi dei partiti estremisti in modo particolare in Germania e nel 32 con la vincita del partito nazionale socialista nella zona di Dassau tutta la scuola dei Bauhaus è costretta a chiudere e gran parte degli artisti di quella scuola vanno in esilio chi a Parigi e chi in Svizzera. È in questo contesto che lui comincia a entrare in contatto con alcuni di questi in modo particolare Klee e Kandinsky di cui poi tratterà anche le opere. Ma le prime avvisaglie anche di questa frangia estremista arrivano ben presto anche a Parigi e non dimentichiamoci che Kahnweiler è di origine ebraica. In realtà non è un osservante però è sempre stato molto attento ai dogmi della religione ma in modo particolare è attento ai rifugiati e di cui lui sarà considerato uno dei personaggi più affidabili per avere rifugio, raccomandazioni, informazioni utili a fuggire o a nascondersi o a scappare. Nel frattempo l'Europa è bersagliata da altri guai. Il 26 aprile del 1937 60 tonnellate di bombe vengono lasciate su Guernica in Spagna. 2.000 morti nell'immediato ma soprattutto si scatena una guerra che farà 450.000 morti e soprattutto ci vorranno 30 anni perché la Spagna si ristabilisca. In questo contesto Picasso che evidentemente ne rimane particolarmente colpito deciderà sulla commissione fra l'altro della successiva esposizione internazionale di fare quello che viene considerato il suo capolavoro appunto Guernica una tela di tre metri e mezzo per 7,7 è il suo capolavoro. Nel 1938 l'ascesa di Hitler, l'annessione dell'Austria e l'acquirsi con la notte dei cristalli della persecuzione contro gli ebrei cominciano ad allertare Kahnweiler il quale non è più sproveduto come nel caso della prima guerra mondiale. Ascolta quotidianamente le radio e i giornali qui riesce da parte della Germania e pur non facendosi una ragione che la Germania può arrivare a tanto e che i francesi non siano in grado di difendersi capisce quali sono i pericoli a cui lui e la popolazione francese sta andando incontro e la percezione diventa realtà quando all'Hutel Drouot viene impedito agli ebrei di poter entrare. A 56 anni Kahnweiler decide di scappare da Parigi in balla 154 dipinti fra disegni e dipinti e 62 acquarelli di Paul Klee e si rifugia vicino a Limoges a casa di una coppia di amici e collezionisti che sono i coniugi Lascaux. Qui ha la possibilità negli anni successivi di dedicarsi nuovamente ai suoi scritti, ai suoi testi. La galleria viene portata avanti dalla sua socia, la quale è francese, cattolica e apparentemente non ha problemi. Anzi, sarà proprio lei a rilevarla direttamente dallo Stato francese perché dopo l'occupazione tedesca le gallerie vengono requisite agli ebrei e lei riuscirà ad acquisirla, concordatamente con Kahnweiler, a un quarto del valore, così come avviene per tutte le gallerie di proprietà di galleristi ebrei. Il 6 ottobre del 1944, finita la guerra, i Kahnweiler rientrano a Parigi. Inizialmente vengono ospitati dai Lesir e cercano di riconquistare il rapporto con Picasso, il quale ha fatto un grave passo falso di cui Kahnweiler è consapevole e sa che avrebbe potuto fermare l'artista. Vale a dire che Picasso ha aderito al Partito Comunista, un conto essere simpatizzante e un conto aderire al Partito. Comunque non l'ha potuto fermare. Il clima a Parigi è particolarmente teso anche perché la OSS, il precursore della CIA, è a caccia dei simpatizzanti sia della sinistra sia dell'estrema destra. In ogni caso la situazione particolare di Kahnweiler è migliore rispetto a quella che aveva trovato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ha conservato un buon nome, ha conservato alcuni dei rapporti con i galleristi e in modo particolare la sua galleria è ancora in piedi ed è stata operativa in tutto questo periodo, nonostante la guerra e l'occupazione dei tedeschi. Il problema arriva l'anno successivo, il 14 maggio, muore la moglie Lucy che non solo è stata una grande compagna di vita, di affari, ma è anche stata una spalla intellettuale a cui lui ha sempre saputo e potuto appoggiarsi. A 61 anni, età in cui molti possono cominciare a pensare alla pensione, Kahnweiler deve ricominciare di fatto tutto da capo. Quello che possiamo davvero considerare l'anno della ripartenza è il 1947. Ristabilito il contratto in esclusiva con Picasso sulla scorta della conoscenza dello stampatore Murlau, mitico luogo di Parigi frequentato da gran parte dei galleristi e degli artisti del momento in cui Murlau riesce a dare vita a una serie di litografie che da un lato dà la possibilità di un nuovo filone commerciale, perché le litografie costano molto meno rispetto alle opere uniche, dall'altro sarà un'enorme politica culturale, permetterà a un collezionismo particolarmente ampio di avvicinarsi all'arte e soprattutto all'arte d'avanguardia del momento. Picasso ha un'esperienza nelle arti grafiche come non ha nessun altro e avvia con Kahnweiler un progetto importante con la produzione di moltissime litografie. Kahnweiler ne ha il vantaggio di risollevare la galleria perché la vendita delle litografie va particolarmente bene e per quanto riguarda Picasso riesce ad accedere a un mercato a cui fino a quel momento non aveva potuto accedere. La relazione fra Pablo Picasso e Daniel Henry Kahnweiler è comunque particolarmente solida perché da un lato Picasso è un fuoriclasse, è un genio e Kahnweiler glielo riconosce, anzi ha l'umiltà di dire spesso e volentieri che lui è un grande gallerista perché ha un grande artista da seguire. Nello stesso tempo Picasso può fidarsi ciecamente del suo gallerista perché Kahnweiler è un uomo integro, gli riferisce qualsiasi cosa in qualsiasi momento, di qualsiasi trattativa e soprattutto lo tutela e gli risolve qualsiasi problema. È di fatto l'ambasciatore di Picasso. Gli affari vanno molto bene soprattutto per la vendita quindi la galleria ormai è troppo piccola, non ce la si fa più. Kahnweiler e la sua socia Louise Lesire devono prendere degli assistenti, una contabile e cominciano anche a individuare, visto che l'età avanza, un possibile prosecutore della galleria che Kahnweiler aveva già identificato in Maurice Gerdot. L'aveva conosciuto qualche anno prima e ne aveva ammirato la cultura, l'umiltà, la grande capacità di lavoro e lo considera un vero e proprio delfino. E con Gerdot e Louise Lesire si trasferisce nel 57 in una nuova galleria e fa una scelta assolutamente controcorrente. Sceglie un palazzetto che si affaccia su un parco meraviglioso in Rue Monceau. È appunto una scelta controcorrente perché non è più nel quartiere dei banchieri e dei galleristi. Non per questo minerà la fama di essere veramente il tempio del gusto e dell'avanguardia dell'arte di Parigi. Nei primi anni 60 si dedica fondamentalmente a convincere galleristi e artisti che si sono nel frattempo rifugiati in altri luoghi prevalentemente a New York di rientrare, considerando Parigi il luogo dove può germinare una nuova corrente e dove deve essere stabilita l'avanguardia il testimone dell'arte contemporanea. Evidentemente non ci riuscirà e proseguirà a spendersi anche quando dovrà affrontare la morte di Brach nel 1963 e ancora peggio quella di Picasso nel 1973. Si spegne nel 1979 e i giornali lo ricordano con un'affermazione molto particolare con Kahnweiler muore per la seconda volta Picasso. Questo per far capire il legame e l'importanza di amicizia, di relazioni d'affari, di stima e di evoluzione e sviluppo che hanno avuto l'uno per l'altra. Kahnweiler incarna il vero modello del gallerista, di cultura tedesca, di attenzione europea, cosmopolita, è un uomo legale, integro, colto, ha valori saldi, crede nei propri artisti, ha intuito. Insomma, un grande gallerista è un grande uomo. Grazie a tutti.